Ok, al termine di questo lungo percorso siamo arrivati ad affrontare il tema della conoscenza e quindi il saggio dell'intelletto umano si proponeva fin dall'inizio il compito di analizzare il perimetro all'interno del quale il nostro intelletto si muove per giungere alle conoscenze, quali sono le cose di cui noi possiamo parlare, quali sono e in che modo avvengono le nostre conoscenze, la costruzione delle nostre idee, in questo percorso abbiamo visto che Locke è passato per diverse demolizioni dalle idee innate al concetto di sostanza e ha ridisegnato un nuovo approccio alla filosofia della conoscenza, la gnoseologia, che effettivamente dopo Locke continuerà la sua riflessione e sarà fortemente influenzata dalle intuizioni di questo filosofo. Il percorso del saggio sull'intelletto umano culmina con l'analisi di che cos'è la conoscenza e quali sono le forme della conoscenza. In questo specchietto riepilogativo abbiamo in un colpo d'occhio, in maniera sinottica, una suddivisione di quali sono le tre tipologie di conoscenza che Locke analizza nel saggio sull'intelletto umano, la conoscenza intuitiva, la conoscenza dimostrativa e la conoscenza delle cose che esistono fuori di noi. Accanto alla conoscenza certa vedremo che esisterà una conoscenza probabile e l'insieme di questi due tipi di conoscenza, la conoscenza certa e la conoscenza probabile, costituisce l'ambito della ragione. Da questa si distinguerà la fede, ma andiamo con ordine e vediamo qual è il ragionamento che fa Locke nell'ultima parte di questa lezione. Allora, partiamo dalla conoscenza intuitiva. Allora, la conoscenza è sostanzialmente interpretata da Locke come accordo o disaccordo tra le idee. Ad esempio, quando diciamo il bianco è chiaro e il bianco non è nero, ecco, queste sono tipologie di conoscenza che noi possiamo attingere in maniera intuitiva. C'è un carattere di forte certezza, di intuitività, avvengono nel nostro animo con una chiarezza che le rende indubitabile, tanto da non aver bisogno dell'utilizzo di altre idee intermedie per poter unire o disunire alcune idee che appunto hanno questo carattere di convergenza intuitiva. Leggiamo un piccolo passo in cui ci parla di che cos'è la conoscenza intuitiva. La differenza di chiarezza tra l'una e l'altra nostra conoscenza, cioè tra la conoscenza intuitiva e la conoscenza invece dimostrativa, che vedremo dopo, a me pare che dipende dal diverso modo con cui il nostro spirito percepisce l'accordo e il disaccordo tra le sue idee. Se riflettiamo infatti sulla via che il nostro pensiero segue, vedremo che talvolta lo spirito percepisce la convenienza o non convenienza di due idee immediatamente, mediante queste sole idee e senza l'intervento di nessun'altra idea. È questa la conoscenza che possiamo chiamare intuitiva. In essa lo spirito non si dà mai la pena di provare o di esaminare, ma percepisce la verità come l'occhio percepisce la luce. Ecco, quindi è qualcosa di immediato che si imprime nel nostro spirito senza mediazione, senza utilizzo di ulteriori idee. Col solo volgersi verso di essa, basta pensarla e immediatamente sorge, proprio come la luce illumina l'occhio. È per questa via che lo spirito vede che il bianco non è nero, che il circolo non è triangolo, che il 3 è maggiore di 2 o è uguale a 1 più 2. Questa forma di conoscenza è la più chiara e la più certa che l'umana intelligenza possa raggiungere. Su questa intuizione è fondata tutta la certezza e l'evidenza della nostra conoscenza e ogni uomo sente che essa è tale che egli non può esigere e neppure immaginarne una più grande. La certezza dipende talmente dall'intuizione che nel grado successivo di conoscenza, la cosiddetta conoscenza dimostrativa, questa intuizione è necessaria in tutte le connessioni delle idee intermedie, senza di che noi non possiamo attingere né conoscenza né certezza. Quindi la conoscenza intuitiva è la prima e la più immediata, la più certa tra le conoscenze che abbiamo. Abbiamo fatto alcuni esempi, si tratta di unione o di accordo o di disaccordo tra idee che appunto è di tale evidenza, di tale immediatezza, quasi come la luce che colpisce l'occhio, appunto che non possa essere messa in dubbio, non ha bisogno di una dimostrazione, di un ragionamento, di una catena di passaggi e sostanzialmente si basa sulla perfetta compatibilità, armonia di alcune idee tra di loro, tale per cui appunto la conoscenza di queste idee e di questa relazione tra queste idee è di carattere intuitivo. In secondo luogo, Locke ci parla della conoscenza dimostrativa. La conoscenza dimostrativa è sempre una conoscenza certa, ma è ottenuta tramite un ragionamento, cioè tramite una concatenazione di idee. Da quello che io percepisco con immediatezza, introducendo altre idee, posso costruire un'inferenza, una induzione, una deduzione che mi permette di arrivare quindi a una conclusione. A differenza della conoscenza intuitiva, ci dice Locke, questa conoscenza è un pochino più rischiosa, perché presuppone l'esistenza di una catena di ragionamenti, di più passaggi e soprattutto di passaggi intermedi, di idee che leghino un'idea di partenza a una conclusione che noi chiamiamo prove. La bontà, mentre l'intuizione ha una forza auto-evidente e ci pone di fronte alla conoscenza senza dubbio e senza possibilità di errore, invece la conoscenza dimostrativa, benché possa condurre a conoscenza certa, ha bisogno di controllo, ha bisogno di rigore, ha bisogno di precisione e ha bisogno di un'attenzione maggiore per evitare l'innescarsi di errori, soprattutto quando i passaggi da fare nel ragionamento, nella dimostrazione, sono numerosi. E questo ne abbiamo una conoscenza e una esperienza diretta. Quando facciamo un'equazione di matematica, per esempio, un'equazione complessa che preveda molti passaggi e una serie di regole da adottare per passare da un passaggio all'altro, è direttamente proporzionale questa lunghezza alla possibilità che un singolo piccolo errore possa annidarsi tra i passaggi e quindi invalidare tutto il ragionamento. Vediamo come ce ne parla Locke, conoscenza dimostrativa. Il grado ulteriore della nostra conoscenza è quello in cui lo spirito percepisce l'accordo di alcune idee, ma non immediatamente come era nella conoscenza, invece, intuitiva. In questo caso, quando lo spirito non può stabilire la connessione, diremmo noi, diretta tra due idee, appena esse gli appaiono e solo giusta ponendole, applicandole l'una all'altra per scoprirne la convenienza o non convenienza, ma è costretto a ricorrere all'intervento di altre idee, uno o più, secondo i casi, sia ciò che noi chiamiamo ragionamento. Quindi quando non siamo in grado di stabilire se due idee sono convenienti o, invece, al contrario, non convenienti, non immediatamente, ma attraverso l'utilizzo di altre idee, abbiamo bisogno di un ragionamento. Dobbiamo fare un ragionamento per capire se A è B. Dire due uguale due non c'è bisogno di un ragionamento, è un'intuizione immediata. Invece dire, ad esempio, l'uomo è mortale, beh, in questo caso occorre fare un ragionamento, cioè bisognerà trovare dei punti di connessione intermedia tra l'idea di uomo e l'idea di mortale. Queste idee a cui si ricorre e che servono a dimostrare la convenienza di due altre idee sono chiamate prove da Locke, e il processo per cui si giunge a percepire chiaramente e agevolmente questo accordo o disaccordo viene chiamato dimostrazione, in quanto questo accordo viene mostrato all'intelletto in modo che lo spirito veda che è così. Sebbene questa conoscenza raggiunta mediante prove sia certa, essa non ha l'evidenza chiara e lampante, né suscita il nostro assenso che suscita quella intuitiva. Con la dimostrazione lo spirito coglie alla fine la convenienza delle idee che prende a considerare, ma ciò accade non senza attenzione e fatica, occorre ben più che uno sguardo fuggitivo. Per scoprirla bisogna applicarsi e per seguirla tenacemente, occorre una progressione graduale, a tappe, perché lo spirito possa aggiungere alla certezza per questa via. E' vero, infine, che la percezione prodotta da dimostrazione è anch'essa molto chiara, tuttavia molte volte si raggiunge non senza un grande oscuramento di quel chiarore di evidenza, di quella pienezza di certezza, che invece accompagnano sempre la conoscenza intuitiva. Sentite l'esempio che fa. Accade di essa come di un viso, di cui i vari specchi si rimandino l'un l'altro all'immagine. Finché essa conserva l'accordo, la somiglianza con l'oggetto, produce una vera conoscenza, ma poco a poco, in ciascun riflesso successivo, come uno gioco di specchi che allunghi la catena, diciamo così, delle conoscenze e allunghi quindi la riflessione di quest'immagine, in ciascun riflesso successivo perde una parte della perfetta chiarezza e distinzione della prima immagine, fino a che di riflesso in riflesso diventa grandemente oscura e non più riconducibile a prima vista, specie per un occhio debole. Questo accade di una conoscenza raggiunta attraverso una lunga serie di prove. Questa è la seconda tipologia di conoscenza. Infine c'è un'ultima tipologia, che è quella della conoscenza sensoriale. La conoscenza sensoriale è la conoscenza che noi facciamo del mondo esterno, attraverso l'utilizzo dei sensi. Questa conoscenza avviene attraverso quella che Locke chiama la percezione sensibile attuale, cioè la percezione che c'è di un oggetto nel momento in cui lo percepisco. Perché è ben diverso, ci dice Locke, avere un'idea di un oggetto nel momento in cui lo percepisco o avere memoria, ricordo di un oggetto. In effetti, se noi osserviamo questa penna, noi abbiamo un grado di certezza della sua esistenza, ora vedremo perché e in che modo, a causa dell'effetto che i sensi producono nel nostro intelletto. Se noi togliamo questo oggetto dalla nostra vista, immediatamente diventa un ricordo. Esiste ancora la penna, ma non è più una certezza attuale, una percezione attuale. Quindi, la percezione sensibile si nutre della possibilità di essere a contatto diretto con il mondo esterno. È tanto più certa questa conoscenza, che chiaramente ha un grado di certezza inferiore alle due conoscenze precedenti, quanto più è collegata all'attualità dell'influsso di questo oggetto di conoscenza sui miei sensi. Ok, a questo punto Locke ha a che fare con una obiezione. Come posso io essere certo del mondo esterno nel momento in cui non ho altro che idee? Sappiamo, facendo un passo indietro, che tutto il ragionamento del saggio sull'intelletto umano è vero che parte dalla priorità dei sensi, dall'importanza dei sensi nello sviluppo poi di tutte le idee semplici e idee complesse, ma riduce l'intero mondo cognitivo dell'essere umano alla produzione di idee. Lo abbiamo visto ormai tante volte. Secondo Locke, tutto ciò che noi conosciamo sono delle idee. Quindi, nel mondo esterno, noi abbiamo idee, idee semplici, idee complesse. Come facciamo però a sapere che, questa è una domanda che già aveva fatto Cartesio, possiamo sapere con certezza che le idee che abbiamo del mondo esterno corrispondano a degli oggetti del mondo esterno, corrispondono a delle realtà esterne. In fondo, noi ci muoviamo sempre all'interno di un mondo percettivo, di un mondo esperienziale. Quando noi parliamo dell'esperienza, dei sensi, dell'influsso dei sensi su di noi, noi parliamo sempre di percezione. Se io tocco un oggetto, tocco questo computer, cosa succede? La punta del mio dito trasmetterà attraverso i nervi l'impulso della sensazione che ho ricevuto al cervello e che elaborerà un'idea. Quindi quello che io tocco, quello che io vedo dell'esterno, è sempre interno a me in realtà. È qualcosa che avviene all'interno del mio sistema cognitivo, del mio sistema nervoso, diremmo oggi. Quindi Locke fa un ragionamento proprio per cercare di spiegare le ragioni per cui è possibile immaginare che, soprattutto attraverso questa conoscenza sensibile attuale, noi possiamo avere una ragionevole certezza di poter in qualche modo riferirci a un mondo esterno, che il mondo esterno esista realmente. Allora, la prima risposta è se la conoscenza delle nostre idee terminasse in esse, quindi noi possiamo conoscere solo le idee, possiamo conoscere solo le idee, ma esistono soltanto le idee, e non andasse oltre dove c'è qualcos'altro da intendere, i nostri pensieri più seri non avrebbero altra utilità dei sogni di un cervello pazzo e le verità costruite su essi non avrebbero maggior peso dei discorsi di un uomo che vede chiaramente le cose in un sogno e le enuncia con grande sicume. Se il nostro mondo fosse soltanto popolato da idee, queste idee non fossero altro che delle immagini prodotte da noi senza nessun rapporto, relazione, corrispondenza con un mondo esterno, sarebbero sogni di un cervello pazzo, sarebbe tutto inutile e saremmo come quegli uomini che parlano di cose con grande sicurezza ma che in realtà non sono cose di cui appunto nessuno può avere certezza e forse neanche esistono. Ma ci sono anche altre ragioni che usa Locke, altri argomenti per cercare di dimostrare il fatto che il mondo esterno ha, cioè diciamo la conoscenza, lo abbiamo del mondo esterno, è una conoscenza di qualcosa, di ideale che però corrisponde a un mondo esterno reale. Quindi che il mondo esterno esiste. Allora, vediamo di ripercorrere questo ragionamento. Ci dice Locke, noi non possiamo produrre idee semplici se non riceviamo tramite la sensazione le informazioni necessarie alla loro produzione e quando uno dei nostri organi non funziona, tutte le sensazioni relative mancano. Quindi dice, se un organo di senso non funziona, io non ho le sensazioni di quell'organo di senso e quindi questo dimostra che le sensazioni non sono prodotte da noi ma devono provenire da qualcosa di esterno proprio perché il senso che si è lesionato era un ponte tra qualcosa che sta fuori di noi e qualcosa dentro di noi. Quindi le sensazioni non sono autoprodotte perché se un organo di senso si rompe il flusso informativo viene a cadere e quindi non produciamo più quelle sensazioni. Secondo argomento, le idee che sono prodotte nel nostro spirito attraverso i sensi non possiamo controllarle, non possiamo non ascoltare o non vedere qualcosa. Siamo passivi e quindi non potendo noi evitare che questo accada dobbiamo per forza presupporre che ci sia una causa esterna che lo fa succedere. Se non fosse così, se fosse tutto autoprodotto, potremmo decidere di non vedere o potremmo decidere di non ascoltare. I sensi poi oltretutto ci danno informazioni con coerenza, con costanza. Se io tocco una tazza la sento in un certo modo, la tocco ancora, la sento ancora in un certo modo questo peso, questa temperatura, questa forma, questo colore. Quindi questo fa presupporre che sarebbe impossibile che questo si realizzasse sempre in questo modo se non ci fosse un oggetto reale da cui provengono le sensazioni. E infine le idee che sono derivate dalla sensazione producono in noi, possono produrre dolore. Se io tocco un ago, sento dolore, mentre se io penso a un ago, ricordo un ago, non sento dolore. Sentite in questo senso questa argomentazione che fa riferendosi, è chiaro che qui ci stiamo riferendo anche alla critica cartesiana, diciamo al realismo del mondo esterno, vi ricordate che Cartesio aveva immaginato un mondo, un'ipotesi per cui noi siamo all'interno di un sogno e quindi tutto ciò che ci sembra provenire dai sensi in realtà potrebbe essere prodotto dal nostro sogno, noi trovarci in un sogno, il mondo esterno, quindi essere non vero, non esistente, non abbiamo prove dell'esistenza del mondo esterno. Ok, vediamo come ce ne parla Locke quando appunto affronta il tema della conoscenza sensibile. L'induzione, la dimostrazione di cui abbiamo parlato diciamo nella seconda modalità di conoscenza, la conoscenza dimostrativa, sono i due gradi della nostra conoscenza. Ciò che non può riferirsi né all'uno né all'altro, per grande che sia la sicurezza con cui lo si accoglie, non è conoscenza, almeno per quanto concerne le verità generali, ma fede oppure opinione. Ma c'è in vero una percezione che lo spirito ha delle esistenze particolari degli esseri finiti del mondo esterno, la quale, sebbene non raggiunga perfettamente nell'uno o nell'altro dei gradi di certezza precedentemente ricordato, va tuttavia oltre la mera idea. Se ciò è, noi possiamo da questa dedurre l'esistenza di qualche cosa che nel mondo esterno corrisponda alla nostra idea. Perché, si dice, gli uomini possono avere tali idee nello spirito anche se l'oggetto non esiste e non affetta perciò i nostri sensi. Quindi qui sta proprio affrontando il tema dell'esistenza del mondo esterno. Potremmo avere delle idee che però non sono relative a oggetti che esistano fuori da noi, quindi sono idee prodotte da noi, ma non c'è un oggetto reale che corrisponda a queste idee. Tuttavia io credo che vi sia qui un'evidenza che supera ogni dubbio. Io domando, quindi lui si pone questo dubbio, e adesso però fa delle critiche a questo dubbio. Questo dubbio è simile al dubbio cartesiano. Io domando a chi che sia se egli non è assolutamente convinto della diversità della sua percezione, se egli guarda il sole durante il giorno o pensa o pensa a esso durante la notte. Molto bello questo esempio. L'idea di sole potrebbe essere prodotta da noi, potrebbe non esistere il sole, ma è ben diverso però guardare il sole, l'idea che sorge durante la mia osservazione di sole, quindi l'immagine che si crea nella mia mente mentre osservo il sole, è ben diversa dall'immagine che si pone nella mente quando io ricordo il sole durante la notte. se egli prova in atto il sapore dell'assenzio e l'odore della rosa ovvero semplicemente pensa a quello o a questo. Cioè un conto è annusare un bel profumo di una rosa, un conto è pensare a questo profumo oppure un conto è bere l'assenzio e il sapore dell'assenzio così forte e un conto è ricordarlo o pensarlo o produrlo all'interno della nostra mente e quindi sono due aspetti molto diversi, ok? ma non finisce qui che se qualcuno dirà che un sogno può produrre lo stesso effetto che la realtà e che tutte queste idee possono sorgere in noi senza che vi siano oggetti esterni io lo prego dunque di sognare questa mia risposta quindi se qualcuno come appunto facevano i cartesiani pongono il dubbio del sogno dicendo ma in fondo allora tutto questo potrebbe essere un sogno e quindi quello che tu pensi sia osservare il sole in realtà è soltanto il sogno di te che stai osservando il sole dice io ho due obiezioni sognate questa mia risposta sempre questo humor britannico primo che importa ben poco io posso liberarmi da questo scrupolo da questo dubbio perché se tutto è un sogno qualsiasi ragionamento qualsiasi argomentazione è inutile perché la conoscenza e la verità non esistono quindi dice se è tutto così beh come dire chiudiamo baracca abbandoniamo la scienza la filosofia la matematica il vivere comune tutto è inutile perché non usciremo mai da questo dubbio ma è anche abbastanza inutile porsi la domanda perché a questo punto la stessa ricerca di conoscenza sarebbe inutile nulla esiste le verità non esistono a questo punto non ha neanche senso domandarsi se noi sogniamo o non sogniamo non ha nessuna differenza visto che non possiamo uscire da questo sogno secondo e questo è anche molto curioso il suo esempio io risponderei questo che io credo che gli vorrà riconoscere che c'è una bella differenza tra sognare di essere sul fuoco ed essere vivo effettivamente dice beh allora sogna di essere bruciato vivo e poi invece io ti brucio veramente vivo beh la sensazione di disagio che proverai nel sogno l'angoscia certo è qualcosa ma è ben diversa dall'immenso dolore che proverai se io ti metto sulle fiamme che se egli persiste a manifestarsi così scettico da sostenere che ciò che io dico essere effettivamente fuoco non è altro che un sogno e che questo non basta a farci conoscere con sicurezza che quella tal cosa che chiamiamo fuoco esiste effettivamente fuori di noi risponderò che noi siamo sicuri che il piacere e il dolore conseguono all'applicazione di alcuni oggetti al nostro spirito e che questa certezza è proporzionale alla nostra felicità o alla nostra sofferenza ne oltre questo abbiamo interesse di conoscere altri sicché io credo che possiamo aggiungere alle due precedenti forme di conoscenza questa terza che concerne l'esistenza di oggetti esterni particolari mediante la percezione e la coscienza che noi abbiamo dell'effettivo penetrare in noi delle idee che da essi provengono e che dobbiamo perciò riconoscere tre gradi di conoscenza quella intuitiva quella dimostrativa e quella sensitiva in ciascuno dei quali ci sono gradi e modi diversi di evidenza e di certezza quindi ci sono tre gradi di certezza e di evidenza che sono commisurati e vanno di pari passo ai tre gradi di conoscenza il grado intuitivo al grado massimo di certezza il grado dimostrativo è molto certo ma si annida all'interno della dimostrazione soprattutto quando complessa la necessità di trovare prove passaggi intermedi che possono portare all'errore il mondo esterno è ancora più incerto e c'è bisogno di tenere ben presente che c'è una grande differenza tra la certezza che si ha di un oggetto nel momento in cui lo si percepisce quindi la percezione è attuale l'attualità della percezione e invece quello che rimane al nostro spirito nel momento in cui non siamo di fronte all'oggetto pensato ma lo stiamo rappresentando con la memoria con l'intelletto questi tre gradi di conoscenza questi tre gradi di conoscenza corrispondono tre oggetti che sono poi l'oggetto della nostra conoscenza io Dio e il mondo esterno con la conoscenza intuitiva c'è la idea dell'io con la conoscenza dimostrativa si dimostrerà l'esistenza di Dio e con la conoscenza sensibile il mondo esterno di cui abbiamo già parlato allora rispetto alla diciamo all'intuizione dell'io Locke nonostante le varie critiche poi al razionalismo di Cartesio riprende proprio l'argomentazione cartesiana e quindi sostanzialmente utilizza l'argomento del cogito noi ci rendiamo conto della nostra esistenza attraverso il dubbio il dubbio porta al cogito il cogito porta alla percezione e sicurezza della propria esistenza dell'esistenza dell'io della propria coscienza per quanto riguarda l'esistenza di Dio noi abbiamo visto precedentemente la critica di Locke alla conoscibilità di Dio e al fatto che Dio non possa essere peraltro una sostanza un'idea innata però come dicevamo Locke crede nell'esistenza di Dio e anzi pensa che sia una certezza una delle certezze che si possono raggiungere per via dimostrativa in particolare per dimostrare l'esistenza di Dio Locke anche qui non è molto originale e riprende il ragionamento della tradizione sostanzialmente aristotelico del motore immobile cioè serve una causa ultima per spiegare la catena delle cause non è possibile andare all'infinito nella ricerca delle cause ogni cosa ha la sua causa ma di cui è un effetto il suo rapporto di causa-effetto potrebbe andare all'infinito e questo ricursione all'infinito non ha nessun senso occorre immaginare presupporre questo è una condizione necessaria per spiegare secondo Locke il meccanismo del mondo naturale delle cause e degli effetti una causa prima necessaria che sostanzialmente DIA è che non sia a sua volta causata e questo è secondo Locke Dio ma anche questa argomentazione non è nuova è un'argomentazione che ci riporta un po' a una serie di analoghe dimostrazioni che da Aristotele in poi durante la scolastica e anche in parte riprese da Cartesio stesso infine è molto interessante l'ulteriore diciamo passaggio di Locke dice ok quindi esistono queste conoscenze queste tre conoscenze però che sono diciamo certe comunque la nostra l'intuizione la dimostrazione e la sensibilità però la nostra conoscenza la conoscenza del mondo in realtà è limitata rispetto oltre questi tre canali di conoscenza è limitata proprio dal fatto che non abbiamo tutte le idee che si possono avere ad esempio altri uomini hanno idee che noi non abbiamo nessuno possiede tutte le idee nessuno possiede sufficienti idee secondo Locke per avere la possibilità di conoscere ampie parti del mondo dell'universo della natura e soprattutto poi ci mancano le condizioni le connessioni tra le idee che noi possediamo ad esempio ci parla dell'estensione della conoscenza umana e un po' se arriviamo quindi un po' a conclusione di questo lungo ragionamento abbiamo visto cosa possiamo conoscere con certezza e adesso vedremo l'invenzione interessante di Locke della probabilità cioè dell'idea della conoscenza probabile ma intanto vediamo perché non possiamo conoscere tutto poiché la conoscenza consiste nella percezione dell'accordo o disaccordo tra le idee ne segue anzitutto che la nostra conoscenza non può estendersi oltre le nostre idee la nostra conoscenza non può estendersi oltre le nostre idee la nostra conoscenza intuitiva non può estendersi a tutte le nostre idee e a tutto ciò che noi vorremmo conoscere di esse perché non possiamo esaminare e percepire tutte le relazioni che per giusta posizione o per comparazione immediata dell'una con l'altra possono sorgere tra le varie idee abbiamo quindi dei limiti secondo Locke dei limiti cognitivi dei limiti cognitivi questo è un altro passo avanti molto grande riporta la capacità dell'intelletto dell'uomo anche in un periodo così vuol dire positivo per le scoperte anche della scienza della rivoluzione scientifica c'è un momento questo del 600 effettivamente in cui c'è grande fiducia nelle capacità dell'uomo Locke con questa ricostruzione di tutto quello che l'uomo può sapere dove arrivano effettivamente le certezze ci sta dicendo che noi dobbiamo anche fare un po' un bagno d'umiltà e capire che non siamo nessuno di noi in grado di avere una grande quantità di idee e anche di collegare queste idee sempre in maniera precisa ne segue ancora che ciò che si è osservato sopra da ciò che si è osservato sopra che la nostra conoscenza razionale non può abbracciare l'intera estensione delle nostre idee perché non sempre c'è possibile trovare tra l'una e l'altra idea differente che noi ci proponiamo di esaminare idee intermedie così fatte che si possano collegare l'una con l'altra intuitivamente in tutte le parti della deduzione e dove questo collegamento viene meno c'è impossibile la conoscenza e la dimostrazione la conoscenza sensibile finalmente poiché non può oltrepassare l'esistenza delle cose attualmente presenti ai nostri sensi è ancora più ristretta di ciascuna dei progetti quindi l'intuizione non possiamo conoscere tutto intuitivamente conosciamo una piccola parte delle cose intuitivamente e riusciamo a collegare come appunto il bianco non è il nero il 2 uguale a 2 eccetera eccetera pochissimi concetti queste connessioni dirette così forti sono purtroppo limitate a una pochissimo cluster diciamo insieme di oggetti la conoscenza dimostrativa certo arriva a fare numerose dimostrazioni ma anche qui dipende dalla quantità di idee che abbiamo dalle prove che riusciamo a trovare nella connessione tra le idee e quindi anche lì il nostro percorso è limitato a quello che disponiamo al materiale di cui abbiamo davanti infine la conoscenza sensibile è certa solo nel momento in cui abbiamo davanti un certo oggetto e non sempre siamo in grado di avere davanti a noi una grande quantità di oggetti del mondo esterno spesso dobbiamo affidarci alla memoria al sentito dire al racconto alla testimonianza da tutto ciò è evidente che l'estensione della nostra conoscenza è minore non solo della realtà delle cose ma anche della estensione delle nostre idee questo è bellissimo non solo noi non conosciamo tutte le cose ma non siamo in grado neanche di diciamo conoscere tutte le nostre idee ovvero di produrre conoscenza certa utilizzando tutte le nostre idee ci mancano in essi ci mancano i collegamenti in alcuni casi tuttavia malgrado che la conoscenza sia limitata alle nostre idee e non possa né quanto ad estensione né in quanto a perfezione superarle e sebbene questi limiti siano ben angusti rispetto all'universo sarebbe un gran vantaggio se almeno non avessimo circa le stesse nostre idee dubbi e problemi che non sappiamo risolvere ne potremo mai risolvere in questo mondo abbiamo le idee di quadrato di circolo di uguaglianza e tuttavia non saremo mai capaci di trovare il circolo uguale ad un quadrato e neppure di sapere con sicurezza se ciò sia possibile abbiamo le idee della materia e del pensiero ma probabilmente non saremo mai capaci di sapere se un essere puramente materiale possa pensare oppure no ok quindi questa è la situazione di conoscenza certa di fronte a cui siamo noi posti come esseri umani e di conseguenza dobbiamo affidarci alla probabilità interessante che Locke è stato proprio uno dei primi filosofi a mettere in luce che nella conoscenza scientifica anche dobbiamo abbandonare la pretesa di universalità di certezza assoluta non potendo arrivare alle sostanze avendo sempre strumenti limitati avendo tempo limitato avendo idee limitate avendo delle prove non sempre sufficienti però dice chi non volesse mangiare finché non avesse la dimostrazione che quello di questo lo nutrirà quindi se io prima di mangiare dovesse sapere esattamente tutti i composti chimici e il fabbisogno alimentare di tutto chi non volesse muoversi prima di conoscere infallibilmente che l'attività in cui si impegna avrà successo cioè io mi alzo solo se so che esattamente questa cosa che faccio andrà in porto spesso e volentieri non sappiamo non sappiamo neanche se saremo in grado di andare a far la spesa senza magari essere chissà investiti o può succedere di tutto non siamo in grado di prevedere con infallibili certezza la realtà semplicemente ci basiamo su un calcolo di probabilità bene chi facesse questo probabilmente avrebbe ben poco da fare se non sedersi immobile e perire quindi morirà chi pensa che l'azione umana sia come dire conseguente per forza a una conoscenza chiara e distinta una conoscenza certa una conoscenza assoluta infallibile visto che la grandissima maggioranza delle faccende umane sono veicolate da fattori che non sono del tutto spiegabili non sono del tutto conoscibili non sono del tutto prevedibili bene questo praticamente essere umano è destinato a morire ancora prima di mangiare qualcosa e quindi dobbiamo in fondo fidarci spesso di questa conoscenza crepuscolare di questa conoscenza parziale di questa conoscenza imperfetta al posto della conoscenza luminosa forse diciamo di approcci diversi come quelli del razionalismo e questa conoscenza è per la grandissima maggioranza una coscienza probabile quindi un calcolo di probabilità le decisioni che noi prendiamo nella nostra vita sono basate su un calcolo di probabilità questa probabilità però non è una probabilità lanciata nel nulla senza nessun riferimento a un calcolo a un'approssimazione a una previsione è valutata con elementi razionali la probabilità ad esempio l'accordo con la nostra esperienza passato diretta ecco io vado a fare la spesa con sufficiente fiducia di non essere investito perché l'ho fatto tante volte e non sono mai stato investito quindi il pericolo è piuttosto basso potrebbe cadermi in testa un fulmine lanciato dal cielo certamente potrebbe ma la probabilità è estremamente bassa e non sarà certo limitata la mia azione da fare le cose perché in una probabilità su 600 milioni è possibile appunto che io venga travolto da un fulmine nel fare qualcosa ecco se noi volessimo avere questo tipo di certezza ci dice Locke moriremmo tutti di fame infine la testimonianza credibile di altri ecco una persona mi dice che è possibile andare oltre il confine di Roma senza essere diciamo smagnetizzati dagli alieni lo dice una persona che conosco due tre dieci cento è possibile che quindi questo è molto probabile che sia vero a meno che non si siano messi tutti d'accordo per diciamo imbrogliarmi per dissuadermi con questa riflessione sul ruolo della probabilità nella nella conoscenza anche scientifica oltre che nel comportamento dell'essere umano nel mondo concludiamo questo percorso del diciamo di studio della teoria gnosiologica di Locke tutto quello che abbiamo detto è sostanzialmente contenuto in questo piccolo libricino saggio sull'intelletto umano un testo veramente fondamentale nella filosofia moderna vedremo poi nelle prossime lezioni come questa opera filosofica abbia veramente gettato le basi per fertili basi per un nuovo approccio alla riflessione rispetto alla gnosologia la teoria della conoscenza questo percorso che abbiamo fatto rende abbastanza evidente l'importanza di queste novità filosofiche nel panorama culturale del seicento e anche in particolare del settecento le le novità contenute in queste opere diciamo gnosologiche e di filosofia della conoscenza di John Sebastian Locke saranno poi elemento di grande richiamo e di motivo di approfondimento per filosofi successivi David Hume ad esempio sarà uno di questi il settecento osserverà diversi filosofi che riprenderanno svilupperanno le teorie liberali per esempio quindi anche la teoria dello Stato di Locke che faremo nelle prossime puntate avrà veramente un'importanza fondamentale negli sviluppi non solo filosofici ma anche storici del settecento culminando ad esempio alcuni degli ideali di Locke nelle dichiarazioni dei diritti umani nei grandi momenti rivoluzionari di fine settecento e anche dal punto di vista filosofico sarà senz'altro un pensatore che poi in qualche modo costituirà un po' la base di partenza per lo sviluppo del criticismo di Immanuel Kant con cui concluderemo il programma di filosofia di quest'anno un po'